30 stand, 10 allevatori della razza chianina, oltre 20 capi in mostra, circa 40 equi di trapponi, asini, cavalli, ma anche ovini e caprini, per finire con il Toro del Nepal, la guest star di questa edizione, con i suoi circa 1.600 kg di peso e un'altezza algarrese di quasi due metri. Sono solo alcuni dei numeri relativi alla fiera di San Bartolomeo, che torna a città di Castello, nello spazio del Parco Langer, da venerdì 23 a domenica 25 agosto. La presentazione quest'oggi, con il sindaco Secondi e l'assessore al commercio Guerri, ricordando i partner dell'appuntamento, la proloco di Piosina, la società rionale Madonna del Latte, gli elevatori dell'Alto Tevere e Umbri. Non solo animali in fiera, ma anche miele, formaggio, ortofrutta, antichi mestieri e un convegno, sabato 24 agosto, alle ore 18, dal titolo lo stato della zootecnia in Alto Tevere, che vedrà rappresentanti di CIA, col diretti, confaricoltura e associazione allevatori dell'Umbria, per fare il punto della situazione sulla filiera e sul settore, che vive un momento delicato, tra rincaro dei costi di produzione e concorrenza che mina le basi del giusto compenso per gli allevatori. Nei tre giorni di fiera, la società rionale Madonna del Latte gestirà un'area ristorazione all'interno del Parco Langer. La Compagnia dei Balestrieri offrirà la possibilità ad adulti e bambini di scoccare un dardo, mentre domenica 25 alle 10.30 alla Proloco di Piosina relegalerà il consueto appuntamento con Cantucci e Vinsanto. Quanto alla logistica, per la necessaria convivenza con il cantiere della variante del Cassero, da venerdì 23 agosto gli stand degli ambulanti che porteranno alla fiera alimentari, abbigliamento, accessori e casalinghi saranno dislocati tra il parcheggio di Piazzale Ferri e Piazza Gabriotti. Saranno confermati gli espositori dell'area zootecnica interna Parco Alexander Langer con l'offerta anche gastronomica che torna, una nuova disposizione per le tradizionali bancarelle nell'ambito della viabilità rinnovata dopo la variante del Cassero. Quindi una fiera da scoprire, una fiera che sarà vissuta con la consapevolezza di dover improntare il lavoro già per l'edizione 2025 che vedrà un'area totalmente rinnovata.